Bentornati a Radio Design, io sono Nicola Palumbo, qui docente all'Istituto Italiano di Design. Oggi siamo in compagnia di Eleonora Granieri, fashion designer e docente qui presso l'Istituto. Benvenuta Eleonora. Grazie. Allora Eleonora, raccontaci un attimo come nasce la tua esperienza da fashion designer partendo dall'educazione. Insomma, cosa hai studiato? Sì, io prima ho fatto liceo artistico in dirizzo moda e poi mi sono comunque laureata nel fashion designer, coordinatore. In che anno hai? Novantuno. Novantuno. Poi come hai cominciato a lavorare? Quali sono state le tue esperienze? Beh, io ho iniziato subito con Valentino Sport disegnando appunto una linea sci e tennis donna. Poi subito dopo ho iniziato per l'LS e lì disegnavo proprio le linee sci, le prime linee per quanto riguarda la squadra francese. Per il tennis avevamo come testimonio all'epoca Peter Corda. Ok, poi come è andata avanti la tua esperienza? Sicuramente ho continuato come freelancer, prendo uno studio mio e lì ho lavorato sempre nel mondo dello sport per la Galex. Allora era un'azienda di abbigliamento sportivo calcio e quindi all'epoca appunto ho vestito anche in Akata, quindi calcio in serie A. Poi Everlast Sport e Crunch Fitness America. E poi ecco continuato comunque come freelancer toccando vari marchi non solo nel mondo dello sport ma anche nel fashion come per esempio Biblos. E poi anche nel mondo della maglieria, il Kashmir che noi sai che è un po' la nostra patria qui in Umbria. Certo. E abbiamo bellissimi marchi. Bene, bene. E stai pensando a dei progetti futuri? Su cosa stai lavorando? In questo momento sto collaborando con un marchio tutto italiano. Stiamo provando a creare una linea ecosostenibile, quindi utilizzando materiali anche innovativi. e diciamo un target alto, target di lusso e poi ovviamente disegno comunque per altri brand qui in Italia, sempre nel mondo del fashion prevalentemente donna e poi insegno all'Istituto Italiano Design da oltre dieci anni. Qui insegno progettazione, quindi come creare una collezione e lo storia del costume che è fondamentale per poi ideare una collezione. e anche la conoscenza dei materiali, quindi merciologia. Sì, in merito a questo c'è stata anche una bellissima esperienza con il PEFC, se ce la puoi raccontare. Sì, diciamo che noi abbiamo avuto l'onore anche di poter toccare insieme proprio all'Istituto Italiano Design, insieme ai ragazzi, materiali ecosostenibili che provengono prevalentemente dal bosco, quindi come la pelle di fungo, come il tessuto di legno che è lacerato, oppure il tessuto di sughero. E grazie a questi materiali i ragazzi poi hanno potuto creare delle capsule collection, ovviamente seguiti da me, e è venuto fuori un progetto molto bello, molto interessante, che è stato anche esportato poi all'estero. Sì, è vero, è stato presentato alla collezione anche alla sede dell'ONU. A New York, quindi sì, insomma abbiamo avuto un buon riscontro, un buon successo. Bene, grazie mille Eleonora per questa breve presentazione. Grazie a te. E alla prossima intervista su Radio Design. Grazie.